TG Web Sansevero TV non perdere il filo della notizia Perseguitava la ex moglie nonostante un provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Foggia nel settembre del 2009 e finito per questo in manette un 39enne sanseverese che continuava più volte a molestare l'ex coniuge minacciando anche di portare via il figlio minorenne dopo l'uscita da scuola senza averne il diritto La decisione dell'amministrazione comunale di sfrattare la CGL dalla Camera del Lavoro proprio non va giù al sindacato che dopo aver avuto già la solidarietà dei partiti di opposizione invita cittadini e associazioni a partecipare al presidio in programma lunedì 11 aprile a partire dalle 10 ai piedi dell'edificio di piazza allegato La CGL spiegano dal sindacato a sede nella Camera del Lavoro a partire dal 1945 e non permetteremo che politici senza cultura e per motivi ideologici cancellino un luogo simbolo delle lotte democratiche Come si ricorderà infatti l'amministrazione comunale ha deciso con una delibera digiunta di riappropriarsi dell'edificio di piazza allegato per ospitare gli uffici comunali e i servizi al cittadino così da eliminare le ingenti spese per fitti passivi che il Comune paga per il fitto di immobili di privati che ospitano alcuni uffici 60 milioni di euro di opere pubbliche sono state programmate dal Comune di San Severo per l'anno 2011 nell'ambito del piano triennale approvato a maggioranza dal Consiglio Comunale Cifre derivante da finanziamenti POR, MIUR, ministeriali, regionali, oneri di urbanizzazione e proventi di alienazioni Tra le opere che si intendono realizzare è prevista la sistemazione della copertura della sede del Tribunale l'ampliamento del cimitero, la realizzazione di un centro polifunzionale con piscina coperta in zona castellana un campo di palacanestro e una pista di atletica I sindacati hanno sottoscritto con l'amministrazione comunale un protocollo di intesa per il sostegno al reddito e alla qualità della vita Il Comune si impegnerà secondo il protocollo ad innalzare fino al massimo consentito l'aliquota ICI per le seconde e terze case sfitte mentre nessuna variazione sarà apportata per il 2011 all'addizionale IRPEF Allo stesso modo si attueranno politiche di contenimento tariffario attraverso la tariffazione sociale rapportata al reddito Isee agevolando così le fasce sociali disagiate, i pensionati, i disoccupati, i cascati Il protocollo prevede inoltre l'istituzione di una consulta per gli anziani il contrasto al mercato nero dei fitti al fine di garantire risorse al fondo sociale per l'affitto la previsione di un fondo per sostenere l'acquisto della prima casa per le giovani coppie servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza con standard di qualità elevati integrando l'offerta pubblica a quella privata E' morto martedì scorso a causa di un malore improvviso Benito Mundi, direttore di Teleradio Sansevero Benito Mundi, 76enne sanseverese, era molto conosciuto in città Uomo di cultura, è stato per 30 anni direttore del museo e della biblioteca Mundi ha anche scritto diversi libri tra cui Omaggio a Sansevero Morire di speranza, ballate e liriche, mappa del colore del centro storico di Sansevero Stampa periodica di Sansevero e di Capitanata Ho viaggiato con l'Apostolo Tommaso E' stato anche direttore della collana Testimonianze Edizioni Il Rosone Piovono riconoscimenti al Vinitali di Verona per i prodotti sanseveresi L'azienda Darapri ha infatti ricevuto dall'assessore all'agricoltura della regione Puglia Dario Stefano il premio benemerito della vittivinicoltura italiana 2011 ricevendo la medaglia di Can Grande Riconoscimenti anche per il vino Casteldrione Vendemmia 2008 prodotto dalle cantine d'Alfonso del Sordo E' caos alla cestistica Sansevero Dopo la sconfitta beffa rimediata domenica scorsa al Pala Castellana con la prima Veroli Il patron Raffaele Mazzeo ha tagliato due giocatori Donato Cutolo e l'argentino Diego Ferrero Mentre si sono registrate le dimissioni del general manager Angelo Conti e dell'addetto stampa Pino Pistillo Se nel prossimo turno di campionato i neri non dovessero vincere a Verona potrebbe arrivare la matematica retrocessione in A dilettanti Grazie a tutti